E' stato raggiunto l'accordo sul progetto per la velocizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento della linea ferroviaria adriatica. E' affidata a RFI la progettazione e la realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico della linea, miglioramento delle stazioni, rettifica del tracciato in diversi tratti, riduzione delle interferenze, grazie ai quali i tempi di percorrenza tra Bologna e Bari si ridurranno di un'ora. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, con una nota nella quale si sottolinea che l'investimento complessivo è pari a 8,5 miliardi di euro, di cui 5 previsti nella legge di bilancio per il 2022. Con una lettera indirizzata ai presidenti delle regioni interessate, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise e Puglia, il Ministro Enrico Giovannini ha trasmesso il progetto di massima elaborato da RFI nel corso dell'ultimo anno, con la collaborazione delle regioni. Con questo progetto, dichiara Giovannini, si avvia un cambiamento profondo che, insieme agli interventi sulle tratte Napoli-Bari, Roma-Pescara e Orte-Falconara, consentirà di superare divari storici, migliorando le opportunità di sviluppo economico dei territori adriatici e la qualità della vita delle persone, riducendo al minimo l'impatto ambientale degli interventi. In aggiunta, conclude Giovannini, si è concordato di utilizzare 5 miliardi stanziati dalla legge numero 234-2021 e risorse FSC 2021-27 per la realizzazione di bypass che consentano il transito dei treni veloci, passeggeri e di treni merci su nuove tratte all'interno, conservando la linea costiera esistente per la funzione di trasporto pubblico locale e varianti di percorso con l'arretramento della linea in sostituzione di quella esistente. Grazie a tutti.